cari amici buonasera a tutti oggi vi mostro come ormai da un anno a questa parte un altro ciao non si può dire nuovo acquisto perché da oltre un mese che ce l'ho non avevo ancora trovato il tempo di farvelo vedere però oggi eccomi qua premetto subito che è stato venduto all'amico del canale giuseppe conosciuto appunto tramite il mio canale che non solo serve farvi vedere dei mezzi i mezzi che io acquisto ma serve anche a creare nuove amicizie fra appassionati ed è una bella cosa questo è un ciao anni 70 conservato colore rosso come potete ben vedere ha qualche piccola magagna che ora andrò a elencarvi comunque appena arriverà a casa di giuseppe verrà sistemato per bene ed entrerà nella sua piccola collezione personale la marmitta come vedete l'ho appena tolta la devo riverniciare perché ha fatto la ruggine la vernicerò appunto con bomboletta di nero resistente a 800 gradi apposta per marmitte non usate mai colore normale anche perché il calore che proviene dal motore lo cuoce e quindi non è uno spettacolo fa solo danno quindi andiamo a vederlo un po' più da vicino chiaramente dopo più di 40 anni è un po' sbiadito va lucidato chiaramente comunque il suo bel rosso si vede è ancora un po' infangato anche perché era in una fattoria i segni del tempo ce l'ha la sella è la sua originale un pochino spaccata qui nell'angolo come succedeva a gran parte delle selle di quell'epoca anche perché è un punto debole molto fragile poi altra cosa che davvero non riesco a tollerare è questa riparazione fatta da schifo il parafango come vedete si è tagliato e hanno pensato bene anziché saldarlo di mettere dietro un pezzo di ferro e avvitarlo ditemi voi se si può fare un lavoro del genere veramente uno schifo e poi è stato ritoccato a bomboletta tra l'altro di un rosa color salmone che non è nemmeno il suo poi qui manca il fanalino la plastica del fanale che si trova qui il fianchetto è rovinato andrà cambiato comunque sono tutti pezzi che con 10 euro si cambiano la cromatura dei cerchi è ancora buona anche se per renderli perfetti vanno ancora puliti bene manopole originali fanale un pochino rotto a plastica e poi qui è stata fatta una modifica hanno tolto il pulsante che serve per accendere i fari e regolare la luminosità è stato spostato qui tramite questo comando che anch'esso d'epoca perfettamente funzionante vedete che è sicuramente più comodo se volete accendere i fanali mentre siete in viaggio vi basterà fare così anziché allungare il braccio fino qua una bella trovata un bel ricambio d'epoca qui purtroppo manca anche il cavo dell'alzavalvol che si è rotto e per il resto è a posto un bel ciao comunque nonostante tutto che va un po' ripreso adesso gli do subito una bella pulita che è ancora un po' sporco come vedete e poi appena arriverà a casa di Giuseppe ritornerà a nuova vita lo completerà diciamo di tutte le parti che mancano vi faccio vedere anche il motore c'è da comprare anche la staffa che fissa la pedana il motore dai è abbastanza pulito ed eccolo qui tutto originale con questo vi saluto vi ringrazio per seguirmi sempre numerosi iscrivetevi al canale qualora ancora non lo foste vi farò vedere presto nuove chicche ciao a tutti alla prossima